Purtroppo è sempre più pesante la crisi idrica nella Regione Marche e di molti comuni nel nostro territorio. Al di là delle situazioni dell'agricoltura fortemente in difficoltà, cominciano a esserci problemi anche per l'approvvigionamento idrico e per gli animali nei pascoli in alcuni luoghi, ma purtroppo nel nord delle Marche anche per quel che riguarda l'approvvigionamento idrico. Infatti il fiume Metauro che rilascia acqua sia per l'acquedotto che serve la città di Fano che quella di Pesaro, quindi per la maggior parte dei cittadini della provincia di Pesaro Urbino, è al 20% della propria potenzialità, quindi i bacini idrici di Colli al Metauro, di Fossombrone e della Diga del Furlo sono meno del 20% della loro potenzialità e questo nonostante che abbiamo già aperto da dieci giorni il pozzo di Sant'Anna per 150 litri al secondo che vengono immessi nel fiume e che abbiamo limitato il rilascio da questi invasi lungo l'alveo del fiume di altri 200 litri al secondo già, ripeto, da dieci giorni fa. Nonostante questi accorgimenti continua a calare vistosamente la potenzialità di questi bacini e sta mettendo in rischio proprio l'approvvigionamento idropotabile per le nostre città. A questo punto stamattina c'è stata una riunione, una commissione del coordinato della protezione civile regionale e si è deciso di aprire purtroppo anche quest'anno il pozzo del Burano, questo pozzo che è posizionato tra Caglia e Cantiano e che ha una falda fortunatamente molto consistente e questa falda riesce, una volta aperto, a fare sì che la potenzialità del fiume Metauro sia maggiore, quindi negli alvei da dove viene prelevata l'acqua potabile poi ci sia una garanzia di acqua. L'abbiamo aperto per 200 litri al secondo, quindi meno degli scorsi anni, gli scorsi anni l'avevamo aperto per 300, addirittura per 400 litri al secondo, questo per cercare di salvaguardare al massimo questa indubbia risorsa, sperando che da qui ai prossimi giorni poi possa reggere questa situazione, però su questo non c'è certezza, quindi il 2 di agosto ci sarà una nuova riunione e verificheremo un attimo l'andamento, in quel caso sicuramente chiederemo comunque lo stato di emergenza al governo per far sì che perlomeno ci siano dei ristori per tutte le maggiori spese che agricoltori ma anche antipubblici, ambiti territoriali, leato che gestiscono gli acquedotti, possono essere in qualche modo ristorate almeno delle maggiori spese.